molto bene 2399 minuti complessivi e dieci gol segnati in tutto questo è il bottino di tutti i sedici calciatori dell'Inter che sono stati convocati dalle rispettive nazionali in questa sosta che a me è parsa interminabile sedici calciatori che sono stati convocati un po' in giro per tutto il mondo di questi sedici eh per la verità sono scesi in campo soltanto in quattordici perché due come sappiamo eh Kolarov e Brozovic sono risultati positivi e sono rientrati a Milano dopo le le positività appunto e quindi non hanno giocato quattordici calciatori che sono stati protagonisti eh per quelli che sono scesi in campo quindi per questi quattordici è stata una sosta ancora una volta molto positiva nel senso che in questi giorni tra l'altro chi ci ha seguito in diretta stavamo un po' ironizzando dicevamo è il momento che quello che fanno in nazionale poi lo facciano anche anche nell'Inter perché eh in tanti hanno fatto molto bene al di là dei dieci gol ci sono stati tanti calciatori protagonisti anche eh senza segnare eh prendiamo quindi cerchiamo di cogliere il lato positivo da questo da questa sosta e da questo rendimento dei calciatori con le rispettive nazionali eh è vero che molti potrebbero rientrare un po' stanchi dai vari impegni tanti hanno giocato tanti minuti viaggi internazionali eccetera però immagino credo appunto che dal punto di vista mentale e delle motivazioni diciamo tanti interisti abbiano messo dentro energie importanti e motivazioni appunto importanti quindi ce lo auguriamo perché adesso ci aspetta subito dopo da Inter Torino in poi un cammino molto molto importante in campionato Champions League andiamo a vedere nel dettaglio e poi tra l'altro dopo l'elenco adesso vi farò l'elenco di tutti i calciatori come sono andati con il nostro Raffaele di Girolamo che ha fatto un riepilogo molto ben approfondito sul nostro sito dopo avervi fatto questo riepilogo vi farò una domanda e voglio vedere le vostre risposte nei commenti perché immagino che che scatenerò un po' di discussione adesso però vi condivido lo schermo vi condivido il nostro sito passioninter.com eh con il nostro Raffaele di Girolamo come detto ha fatto un punto della situazione con tutti i nazionali scesi in campo nell'Italia ce ne erano ben quattro Nicola Barella Danilo D'Ambrosio Gagliardini e Bastoni diciamo che quello più in vista è stato sicuramente Bastoni con ha giocato tutte e tre le partite e non solo non ha fatto rimpiangere i top diciamo come Bonucci e Chiellini eh ma addirittura eh si candida prepotentemente ad avere uno spazio sempre maggiore in questa in questa nazionale in tanti soprattutto sui quotidiani stavamo leggendo eh parlano di un Bastoni seriamente candidato ad entrare in corsa per una convocazione all'europeo e eh di sicuro ecco non tornerà più nell'under ventuno ormai mi sembra abbastanza evidente che Bastoni sia entrato a far parte a tutti gli effetti della formazione di del ct Roberto Mancini che ha fatto molto molto bene molto positivo anche il rendimento di Barella centottante minuti per lui eh mentre Bastoni le ha giocate tutte e tre e eh Gagliardini invece è stato impiegato soltanto contro l'Estonia perché come sappiamo c'è stato il caso del tampone risultato dubbio poi fortunatamente è rientrato a Milano Gagliardini risultato negativo D'Ambrosio 78 minuti sempre contro l'Estonia nell'Italia Under 21 invece come detto non c'è più Bastoni ma c'è Pinamonti un Pinamonti che è rientrato dalla nazionale Under 21 con un problemino alla caviglia come detto una caviglia gonfia che sembra essersi sgonfiata ma che difficilmente gli consentirà di essere immagino non titolare ovviamente contro il Torino e dovrebbe andare semplicemente in panchina se se starà meglio nelle prossime ore comunque e ha trovato un gol anche anche Pinamonti un gol importante contro il Lussemburgo e e quindi continua il rendimento positivo del calciatore che nell'Inter non ha molto spazio Conte non lo vede pronto nell'Under 21 però continua a far bene nella Danimarca ovviamente c'è Christian Ericsson uno dei calciatori più attesi e uno dei calciatori ovviamente più chiacchierati c'è stata la super sfida contro Lukaku e ne parleremo tra poco soprattutto Ericsson ha brillato nella sfida contro l'Islanda dove ha trovato una doppietta decisiva per la vittoria della formazione danese entrambi i gol su calcio di rigore ovviamente Ericsson come lo vedete numero 10 e fascia da capitano al braccio nella Danimarca tutt'altra cosa invece per il momento quando torna a Milano eh dicevamo di Lukaku è stato grande protagonista e trascinatore Lukaku ormai eh io sinceramente comincio a considerarlo veramente tra i primissimi centravanti del pianeta in questo momento rendimento super con sette gol in otto partite se non valerato in questo più di stagione eh no anzi eh di più spaiato comunque eh sta andando in gol sempre cinque gol su cinque gare nelle ultime cinque partite con la nazionale doppietta eh contro la Danimarca come detto di Christian Elixson un assist contro l'Inghilterra sempre più recordman per numero di gol nella storia della nazionale del Belgio ecco di sicuro eh Lukaku è ripartito molto molto bene De Frey come detto invece ha giocato tre partite da centrale nella nell'Olanda di Frank De Boer un rendimento sufficiente diciamo quello di De Frey con l'Olanda e ha giocato per metà la gara contro la Spagna e poi in per intero le sfide contro Polonia e Bosnia andiamo avanti nella Slovacchia parlavamo prima di Milan Skriner che rientrava dopo un lungo periodo di assenza eh dovuto al covid è stato il calciatore dell'Inter più impegnato durante l'ultima sosta come sottolinea il nostro Raffaele e aveva rischiato di segnare un autogol contro l'Irlanda nel nord del nord nello spareggio per il prossimo europeo e ha giocato in pratica in totale trecento minuti e comunque però è stato eh uno dei protagonisti e uno dei leader della sua nazionale Serbia e Croazia come detto c'era Kolarov che poi è rientrato a Milano perché prima aveva avuto eh un problema fisico poi è risultato positivo la sua Serbia tra l'altro ha fallito la qualificazione al prossimo europeo la sconfitta i rigori contro la Scozia e mh è risultato positivo invece Marcello Brozovic quindi non ha giocato con la Croazia Perisic mezz'ora in amichevole contro la Turchia e poi ha giocato entrambe le sfide contro la Svezia e Portogallo e la Croazia non ha fatto bene tant'è che eh i croati sono retrocessi appunto eh nella Nations League eh andiamo verso la conclusione Argentina e Cile qui arrivano ancora una volta buone notizie dal Sud America soprattutto da Arturo Vidal Arturo Vidal che è stato assoluto protagonista con la nazionale eh cilena una tre gol in due partite doppietta decisiva contro il Peru e una rete che però non è servita ad evitare la sconfitta contro il Venezuela molto molto bene Arturo Vidal Alexis Sanchez in c'è stato un caso molto spinoso con il botta e risposta a distanza tra il commissario tecnico Rueda e e l'Inter con Rueda che nonostante i problemini fisici di Sanchez ha continuato ad impiegarlo speriamo di di rivederlo al meglio speriamo che non accada come è accaduto molto spesso che rientrando a Milano i problemi si riaccutizzino e Lautaro Martinez ancora una volta positivo anche Lautaro Martinez con l'Argentina eh un gol importante è l'undicesimo gol di Lautaro nella gestione scaloni con l'Argentina undicesimo gol è il miglior marcatore da quando sulla panchina della nazionale argentina c'è scaloni il secondo e Messi che ne ha segnati sei cinque gol in più per Lautaro Martinez che in Argentina sta diventando un vero e proprio idolo e tra l'altro vedevo che sui social molti tifosi del Barcellona continuano ad invocarlo chiudiamo con il Marocco con Hakimi che anche lui ha fatto un po' impaurire i tifosi dell'Inter perché nella prima sfida contro la Repubblica Centraficana aveva avuto un problema ma aveva trovato anche il gol e e poi non si sapeva come quanto fosse grave effettivamente quel problema fortunatamente nulla di grave perché ha giocato anche la seconda sfida vinta per due a zero quindi Hakimi torna con un buon rendimento in nazionale questo era il punto della situazione quindi con tutti gli interisti impegnati con le rispettive nazionali vi avevo detto vi avrei fatto una domanda la domanda che volevo farvi potrebbe sembrare provocatoria in realtà non voglio essere provocatorio nel senso secondo voi perché gli interisti ce lo stavamo chiedendo anche nel gruppo telegram in giro con le rispettive nazionali stanno facendo molto bene ed era successo anche alla precedente sosta praticamente tutti gli interisti erano risultati molto positivi in campo poi nell'Inter invece stiamo effettivamente faticando vi giro questa domanda fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti io personalmente lo interpreto come un buon segno nel senso che per me siamo arrivati a un punto che ci basterà davvero poco per sbloccarci e per ottenere poi i risultati che questa rosa merita che questa rosa deve ottenere quindi io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno la condizione c'è i calciatori ci sono bisogna trovare la giusta quadratura e partire bene in vista di questo mese assolutamente decisivo fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti poi vi rispondo in descrizione trovate il link per partecipare al sondaggio di passione inter se vuoi aiutarci a creare il grande club interista online quindi mi raccomando passate il link in descrizione ovviamente iscrivetevi al canale di passione inter e seguite il cuore di passione inter su tutti i canali social grazie a tutti